Non torni indietro. Deve essere qui. Un secondo. Le ricerche di Pocca parlavano di questo posto. Si narra che la tomba del profeta fu nascosta fra le rupi sopra una delle città dimenticate. La leggenda descrive un'oasi dove il profeta venne seppurto. Qui c'è qualcosa. Forse ci sono. Incredibile. È una specie di stelle. Non riesco bene a tradurre tutto quanto. Ma questa parola… Profeta! Ci sono. Papà aveva ragione. Il mio greco è ancora un po' arrugginito. Ma mi sta portando verso qualcosa che mi ascolto da queste parti. Devo segnare i luoghi. Questi sono i miracoli del profeta di Costantinopoli. Trucidato ingiustamente per mano dell'ordine della Trinità. Qui viene raffigurato mentre compi il miracolo della guarigione. Gli appunti di papà ne parlavano. Trapposti che z'aclastico sul romano. Non riesco a lasciare la parte dei meri. Non riesco a livello. Non riesco a venire. Un pezzo... È una zona di migliore che il profeta di傳ogia. È il profeta che parla a un esercito straniero. Gli ha convinti a deporre le armi. Condusse i suoi attraverso il deserto, fino all'oasi. Un'entrata segreta. È incredibile se solo papà fosse qui. Oh no. Sono già qui. Devo riuscire a andare. Ah! L'ordine della Trinità inseguì il profeta e i suoi discepoli per tutto l'impero, fino allo scontro finale nell'oasi nascosta. Un passaggio. Dannazioni, andiamo! C'è stata una battaglia qui. Soldati armati contro pellegrini religiosi. L'ordine della Trinità. Il profeta, ucciso dall'ordine della Trinità. l'ordine della Trinità. Anche se fosse perjudicare un'ordine della Trinità. L'ordine Allegela. Diavolo, ci è mancato poco. Avanzano forze di esplosioni. Speriamo che funzioni. Potrei riuscire a sganciare quella vecchia piattaforma. Speriamo. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Do, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.